Non è un movimento che ha finalità tra virgolette immediatamente elettorali, questo è il movimento che sosterrà eventualmente la mia candidatura alle regionali, su questo non c'è dubbio e io non mi nascondo neanche più. Per la prima volta il sindaco di Bari, Michele Emiliano, ha parlato apertamente della sfida per la poltrona di governatore, che per il centrosinistra dovrà essere scelto con le primarie. Lo ha fatto durante la presentazione del suo movimento, una lista civica nazionale alleata dell'Italia dei Valori e di Sahel, ma che non esclude la partecipazione di altre forze apparentemente distanti tra loro. Ho già detto che la costruzione del progetto per la Puglia del 2015 passa attraverso una capacità del centrosinistra di stringere alleanze con quei pezzi del centrodestra in disfacimento e soprattutto passa attraverso una idea non egoistica e non appropriativa della politica. Tutti possono stringere alleanza sullo stesso progetto purché rispettino la Costituzione della Repubblica, non ci sono più limiti ideologici. Emiliano ha anche presentato le prime due convention dal titolo Eora, verso una visione strategica della Puglia. Si svolgeranno a Monopoli, nel villaggio Porto Giardino, dal venerdì alla domenica. Il primo appuntamento per il 17 febbraio, l'altro per il 20 aprile. Il sindaco ha lanciato anche un nuovo sito internet a sostegno del progetto politico www.emilianoperlapuglia.it. L'obiettivo di Emiliano è ricreare un'onda che si riveli benefica per il centrosinistra pugliese senza fare concorrenza né al PD né alle altre forze della coalizione. Valore aggiunto attraverso la partecipazione della società civile. Non accetteremo addetto transfughi dal PD o da altri partiti del centrosinistra, ma persone a cui magari i partiti stanno stretti e che hanno programmi e progetti. Dopo i forum in cui si parlerà di modelli di buona amministrazione nasceranno i circoli di Emiliano per la Puglia un po' ovunque. Attualmente, siccome qualcuno è preoccupato di piccole questioni di bottega, se questa lista non è gradita nelle amministrative che si svolgeranno adesso, assolutamente non verrà imposta da nessuna parte. Posso solo dire che c'è un'intesa molto stretta tra il PD e me, io sono addirittura il presidente del PD, perché in questa maniera è il PD che prende in mano il pallino del rapporto con la società civile e si esprime e declina questa volontà di rapporto sostenendo questo esperimento civico che dal 2004 è un po' la chiave di volta della costruzione di un nuovo centrosinistra.